Il giorno dopo il voto in Ucraina, quando lo scrutinio della maggioranza delle U ne lo dà in netto vantaggio, Petro Poroshenko ha tenuto la prima conferenza a stampa come presidente. Sul palco l'Origarca Fido Occidentale aveva accanto a sé Vitaly Klitschko, appena eletto sindaco di Kiev. Ex ministro degli esteri e ministro dello sviluppo economico ha sostenuto la rivolta di Maidan. Oggi ha promesso cambiamenti radicali. Una delle priorità sarà la lotta alla corruzione e passi coraggiosi per costruire un sistema giudiziario indipendente, ha detto. Sono convinto che in un futuro vicino il paese potrà sperimentare i benefici di questo risultato, il che significa un cambiamento totale nel sistema di potere in Ucraina. Ma c'è un problema di conflitto di interessi. Poroshenko è il più grande produttore di dolciumi, è infatti soprannominato re del cioccolato, ma possiede anche attività nei trasporti e nei media. D'ora in avanti ha detto inauguriamo una nuova tradizione. Chiunque ottenga un'alta carica politica deve separarsi dalle sue attività economiche, vendere le imprese e concentrare tutti gli sforzi per servire ai cittadini. Io lo farò. In realtà non lascerà la televisione che possiede e che si chiama Canale 5. Per quanto riguarda i rapporti con la Russia, Poroshenko ha detto che non interromperà l'operazione militare contro i separatisti, i quali si sono detti pronti al dialogo. Klitschko ha annunciato un monumento in piazza Maidan e ha auspicato il ritorno alla normalità.